Un caro saluto agli amici di Viveri Pesaro da Mario Giuliaci. Il tempo previsto per questa settimana. Bene, sull'Italia arriveranno tre perturbazioni. Una già c'è, un'altra arriverà mercoledì, una terza sabato, che insisterà sull'Italia fino a domenica. Nonostante ciò, guarda caso, le Marche, quindi anche Pesaro e Provincia, saranno risparmiate dalle piogge perché sul Tirreno soffieranno moderati venti di libeccio che nel ricadere sottovento sull'appennino marchigiano saranno ormai secchi e quindi porteranno in prevalenza bel tempo, addirittura anche con molti sprazzi di sereno. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno supergiù e invariate con massime che oscilleranno tra 18 e 20 gradi, quindi al di sopra della meglia. Le temperature minime notturne non scenderanno ancora al di sotto dei 10 gradi. E termino qui, un caro saluto ancora da Mario Gioliacci. Grazie. Grazie.